A te che mi sei sempre stata vicina, dedico questa sorpresa. Cominciamo con il tuo hairstyling e date le tempistiche brevi per la realizzazione di una tinta, decido di applicarti Ritocco Perfetto nella tonalità Castani, uno spray contenente pigmenti in grado di coprire perfettamente la ricrescita dei capelli bianchi. Contenta? Molto. Non vedo più un capello bianco, allora questo volevo. Procedo con l'acconciare i tuoi capelli nella tua pettinatura preferita, boccolosi e voluminosi. Guarda, ti sofficare, ti sofficare, ti sofficare, ti sofficare, ti sofficare, ti sofficare. Ultimo il tuo look per questa sorpresa con l'applicazione di una crema idratante come base, la stesura di un fondotinta cremoso ma ben idratante e luminoso. Uno dei tuoi must have per eccellenza, il correttore illuminante, il mascara sulle ciglia superiori ed inferiori e infine un tocco di rossetto anch'esso molto luminoso. litighiamo spesso, molte volte ci arrabbiamo, a volte non riusciamo nemmeno a concepire il solo fatto di poterci sopportare, ma sappiamo entrambe quanto ci vogliamo bene e nonostante le parole d'amore non siano sempre all'ordine del giorno, beh, sarà banale dirtelo, ma mai scontato, ti voglio bene mamma. E' dura fare queste sorprese al ristorante, sono piena, sto scoppiando, però anche un'altra sorpresa, questo te lo portavo via. Sai come ogni tanto? Ogni tanto, la ricrescettina la portiamo. È giusto.